Guardate, guardate l'acqua dove è arrivata, mi dispiace. Proprio il fango, le bare sono nel fango, là c'è di tutto, che ve lo dico a fare. Queste sicuramente sono bare che guardate dove è entrata proprio acqua, perché sono messe senza scalino, quindi l'acqua sicuramente è arrivata fino a qua, fino là dentro addirittura. So solo che non possono riposare più neanche molti e la situazione è veramente vergognosa, veramente vergognosa, non si può stare, la puzza che c'è, la puzza che c'è, è uno schifo, è una vergogna, 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 e là sono là, guardate che è tutto allagato qua, è chiusa, è chiusa, è chiusa, se ci fai foto, aspetta, guardate, non ci fai foto, non ci fai a prendere qualche foto, schifo, è l'indecenza. C'è la barra, chi ne è racqua, chi ne fu i micoli?